Il Tribunale di Siracusa torna oggi un'udienza di uno dei casi che ha scommuto e continua a svolgere Siracusa, il caso di Stefano Biondo. Ancora si torna in tribunale, questa mattina c'è una cosa in più, c'è anche la consulenza di un criminologo che ha deciso di guardare ciò che finora è avvenuto. Sì, il criminologo Carmelo Lavorino che ha origini siracusane si è avvicinato al caso di Stefano e noi l'abbiamo voluto come perito e lui indagherà, capirà meglio dei lati oscuri della vicenda perché ce ne sono parecchi, parecchi creati e parecchi effettivamente dei vuoti, delle cose non dette, dei fatti non accertati. La storia ufficiale è quella che normalmente si pensa che sia, che sia stato un incidente, poi invece su un'altra strada state continuando a battere, quella di una volontà? Allora si vuole far capire che è stato un incidente, ma un ragazzo di 21 anni, di sanissima Costituzione, non può morire così. Sì, e poi le due autopsie, una del dottor Coco della procura e quella nostra del nostro medico legale, dottor Bulla, tutte e due concordano per asfissia meccanica indotta. Stefano è morto soffocato, qualcuno, e sappiamo chi, l'imputato l'ha pressato, prima l'ha preso con una manovra a cravatta al collo, poi l'ha buttato a terra e l'ha tenuto finché Stefano ha finito di respirare e poi è scappato via. Sono di quei casi intorno al quale si è creato anche una sorta di rete di persone che si sono avvicinate, ne è nata anche un'associazione particolare in nome di Stefano? È nata a strea, a strea è la dè della giustizia, quella che gridiamo a gran voce e speriamo che venga fatta per Stefano. E noi ci batteremo, ci siamo battuti già per più di tre anni e ci batteremo ancora finché Stefano abbia giustizia e casi come quelli di Stefano finiscano perché purtroppo si ripetono ancora.